Siamo in piazza a Torricella, laddove sorgeva il comune di Torricella Sicura e dove sta sorgendo il nuovo comune. Già sono stati tirati sui pilastri, insomma si stanno facendo i solai e tra poco, tra poco. Insomma, lo vedremo sicuramente realizzato. Il termine già fissato è quello di Natale 2021. Sindaco Palumbi. Sì, il programma dei lavori prevedeva questa scadenza che era a dicembre del 2021, quindi del Natale. È ovvio che con il Covid potrebbe esserci qualche, non dico giorno, ma qualche mese di ritardo, però probabilmente potremmo anche riuscire entro quella scadenza a realizzare questo nuovo comune. La ricostruzione pubblica a Torricella va bene, abbiamo realizzato questa opera che è la prima d'Abruzzo, insieme al villaggio SA, che ormai è a conclusione dei lavori, anche lì abbiamo realizzato 49 SAE. Che sono le casette per i terremotati. Sì, le casette per i terremotati dove abbiamo ultimato tutte le opere d'urbanizzazione. Abbiamo in programma un intervento di un milione e tre per Villa Capuani, che i tecnici stanno facendo il progetto esecutivo, quindi partirà anche quell'intervento lì. Sulla privata invece abbiamo dei problemini perché effettivamente ancora non decolla. E di chi è la responsabilità? La responsabilità è difficile attribuirla a qualche soggetto particolare. Abbiamo il nuovo commissario Legnini, una bruzzese doc, che sta facendo tanto, anzi presto è per anche Torricella a visionare queste opere pubbliche, però è ovvio che i problemi ci sono. I tecnici naturalmente stanno facendo i progetti, però non tanti, come dovrebbero essere, anche perché Legnini aveva fatto quell'ordinanza all'acento dove si può dichiarare. Quindi ci sono ancora dei problemi tecnici tra i progettisti e le ordinanze varie che sono uscite affinché si possa procedere in futuro a una progettazione più veloce e sicuramente più importante. Adesso c'è anche la possibilità di un super super bonus, chiamiamolo così, per la ricostruzione. Sì, lì sembra che si possa utilizzare anche per le case che sono oggetto di sisma, con l'eco bonus, si possa creare questo connubio per realizzare i nuovi immobili. È ovvio che le responsabilità ci sono per realizzare i progetti per la ricostruzione privata. I tecnici dovrebbero un attimo essere un po' più incisivi nel dichiarare la progettualità e quindi di far sì che si possa partire con la ricostruzione privata.